Una famiglia di tre persone, una giovane coppia e il loro bimbo è stata distrutta in un tragico schianto. Ma quello che è successo subito dopo lascia senza parole. Oggi esploreremo ogni dettaglio di questo tragico incidente e cosa ha lasciato dietro di sé. Prima di immergerci in questa tragica notizia, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sul mi piace. È davvero importante per noi. Grazie. Oggi affrontiamo un incidente straziante, una famiglia distrutta in un attimo. La coppia aveva solo 23 anni e nel tragico impatto è deceduto anche il loro bambino di soli 2 anni. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire le cause di questa terribile tragedia. La dinamica del sinistro è ancora al centro delle indagini. L'ipotesi più accreditata è che la vettura abbia perso il controllo, schiantandosi autonomamente contro un guardrail per poi travolgere altre due auto. Il padre della giovane viaggiava in un'altra auto, proprio dietro alla famiglia. Nonostante il tentativo di aiuto, la tragedia è stata inevitabile. Il padre della ragazza, testimone impotente di questa catastrofe, ha immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, per la sua famiglia non c'era più nulla da fare. Il dolore di un padre che perde una figlia in tali circostanze è inimmaginabile. La comunità del piccolo paese da cui proveniva la famiglia è sotto shock e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. In segno di rispetto, il paese ha osservato un giorno di lutto cittadino. Scuole chiuse, bandiere a mezzasta e una cerimonia commovente hanno segnato questo triste giorno. La solidarietà mostrata dai cittadini è un segno di quanto la comunità sia unita nel dolore. E voi? Avete mai partecipato a manifestazioni di lutto comunitario? Condividete nei commenti le vostre esperienze e pensieri su queste tragiche circostanze. Questo tragico evento riporta alla luce l'importanza delle misure di sicurezza stradale. È fondamentale discutere di come migliorare la sicurezza sulle nostre strade per prevenire futuri incidenti. Esperti di sicurezza stradale sottolineano la necessità di maggiore vigilanza e di infrastrutture stradali più sicure. Infine, è cruciale riflettere su cosa possiamo fare individualmente e collettivamente per evitare che simili tragedie si ripetano. L'investimento in tecnologie di sicurezza avanzate e la sensibilizzazione alla guida prudente sono passi essenziali verso una società più sicura. La perdita di vite così giovani e in circostanze così tragiche ci interroga tutti. È un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Cosa pensate possa essere fatto per migliorare la sicurezza stradale? Lasciate un commento qui sotto. Iscrivetevi per non perdere altri aggiornamenti e cliccate mi piace se il video vi ha toccato. Grazie per averci seguito su Notizie Livestream. A presto! Grazie a tutti!